Il servizio di cultura perché è stata presentata la settimana della cultura questa mattina a Portogruaro, il servizio con l'assessore della cultura portogruarese. Ci troviamo nel municipio di Portogruaro dove è stata presentata questa mattina la settimana della cultura, ne parliamo con l'assessore competente in materia, con delega della cultura Anna Maria Foschi. Si inizia sabato, con quali prospettive? Si inizia sabato e si termina la domenica successiva con una mostra dedicata al libro di testo unico e con tante iniziative. Quali prospettive? Una bellissima domanda questa. Io mi auguro che il nuovo governo che si è dimostrato così sensibile nei confronti di Pompei, tanto da stanziare più di 100 milioni di euro per il recupero e la salvaguardia, sia anche più sensibile nei confronti delle realtà più piccole come la nostra, anche se non meno importante. Quindi iniziamo questa settimana che viene realizzata grazie alla collaborazione di tantissime persone edenti, che ringrazio assolutamente, nella speranza di poter un domani dare di più ai cittadini di Portoguario e non solo. In sintesi, quali sono gli avvenimenti che caratterizzeranno la settimana della cultura? Sabato con cosa si inizia? Sabato iniziamo con l'inaugurazione di una mostra nella sala colonna del municipio dedicata al libro di testo nelle scuole elementari. Dal libro di testo unico al libro di testo libero, dal 1923 al 1945. Continuiamo domenica con un appuntamento estremamente importante, grazie alla collaborazione della Fondazione Olga e Ugo Levi di Venezia, con la presentazione di un libro di ricerca sulla musica sacra e la consegna del premio in memoria di Pierluigi Gaiatto. E poi ci sono tantissime altre iniziative, in collaborazione anche con la biblioteca, dedicate ai bambini, con il Gravo, presentazioni di libri, avremo due presentazioni, Mario Pettoello presenterà il suo libro Nelle terre basse e Guerino Ermacora, il suo libro I giorni del crociato. E collaborazione con il Museo Nazionale Concordiese, con gli scavi di Concordia, e quindi una settimana molto intensa, devo dire. Mi auguro che ci sia tanta gente a venire a vedere. Ha studiato, Assessore, le diamo un bell'otto. Ringrazio.